Il paralitico del Vangelo di oggi era così privo di speranza che neanche gli viene in mente il pensiero di chiedere la guarigione a Gesù, che è il primo a muoversi e a parlare. Questo paralitico rappresenta la paralisi del nostro cuore, pronto a dare la colpa agli altri, dicendo che non ci aiutano o che ci calpestano. Gesù ci fa capire che la vera forza non è l'acqua della piscina, ma la vera sorgente è Lui. L'acqua che guarisce tutte le nostre paralisi è quella che uscirà insieme al sangue dal suo costato aperto. Ci invita sotto la sua croce per immergerci nella piscina della sua immensa misericordia. Nei momenti di disagio, mortificazione o sofferenza, tendi a colpevolizzare gli altri. Cosa paralizza il tuo spirito in questo periodo della tua vita?